Siamo con i Cruiser e la partenza è quella per il metodo di Alessia in atto, Andrea Pateris con il Cruiser 1.11, la prossima domanda, la seconda posizione del Walter Stifana, gli amici dell'Antonio di su nel tiro, l'abbiamo poi da un'amica ciclistica che ha preso l'Italia Gianluia in attesa in posizione e la parte in scuola, il padre ha preso sempre dalla vecchia, il padre di Alessia in atto, andiamo con il metodo di Alessia in atto, Andrea Pateris Allo comando, signori e signori, della finalità categoria Cruiser, sentito non molto distante da Walter Stifana, ma la vittoria per Andrea Pateris, finale di Cruiser